Buonasera, tra poco nel telegiornale parleremo del decreto salva banche, le due banche Veneto Banca e Popolare di Vicenza, anzi più precisamente del Consiglio dei Ministri, inizieremo a parlare del Consiglio dei Ministri che ci doveva essere oggi a pranzo, è slittato nel pomeriggio, poi a cena, poi in serata, a questo punto poco fa si è saputo ufficialmente da Palazzo Chigi che si terrà domani, insomma rinvii legati, come potete capire facilmente, alla difficoltà dell'oggetto in esame, appunto il decreto, che cosa c'è dentro, cosa ci dovrebbe essere dentro, quali misure per queste due banche, no il bail-in, cioè il coinvolgimento dei correntisti nel salvataggio, sì gli esuberi e questo, come potete capire, si parla di 4.000 persone, 4.000 tagli, insomma cifra importante che sta facendo discutere all'interno del Consiglio dei Ministri e non solo, perché sulle modalità è arrivato il parere positivo, il pronunciamento positivo della Banca Centrale Europea, mentre invece voci dell'Unione o quantomeno della commissaria della concorrenza, la danese Vestager, si sarebbe posta contro con critiche alla modalità del salvataggio delle due banche, contro ma per ragioni diverse anche le opposizioni che criticano la tempistica, cioè il governo Gentiloni, ma già quello precedente Renzi e quindi il Ministro Padoan doveva intervenire prima, ha prolungato troppo la vicenda rendendo le cose ancora più difficili e in particolare, come è facile capire, le critiche puntano sugli esuberi ma anche su, a questo punto, l'intervento che ci sarà dello Stato. Poi in scaletta, inevitabile, domani il voto, le amministrative, piazze importanti vanno al ballottaggio, da Genova, Verona, Parma, Padova, L'Aquila, eccetera, eccetera, voto che arriva ormai a un anno dalla scadenza della legislatura, quindi testi importanti, ballottaggio, tante piazze si giocano tra centrodestra e centrosinistra, sapete quanto è importante quindi far vedere poi quello che succederà e allora lo potrete seguire in diretta con la consueta maratona a partire dalle 22.15, 22.20, dalle 23 chiusura dei seggi, i dati prima gli exit poll e poi via via i dati ufficiali, dicevamo, per una partita importante, naturalmente previsti ospiti qui con il direttore Enrico Mentana, collegamenti con le diverse città al ballottaggio e gli exit poll con Masia. E poi oggi è importante, in primo piano abbiamo messo in scaletta il caso Fazio, di che si tratta? Fabio Fazio ha firmato il nuovo contratto con la RAI e fin qui tutto normale, solo che è un contratto importante fuori da quel tetto che era stata posta, la regola del tetto agli stipendi e allora Fabio ha fatto valere le regole del mercato, però appunto dicevamo quella regola e allora intervengono, è riuscito a mettere insieme forse che di solito se le danno di brutto Fazio, perché dal PD Ansaldi al 5 Stelle Fico parlano di scandalo, chiedono interventi di autorità di diverso tipo, insomma sono andate particolarmente pesanti contro Fabio Fazio. E poi un attentato sventato in Arabia Saudita contro la Mecca, la città santa, Arabia Saudita principale alleato degli Stati Uniti, sunnita nella lettura wahabita, lo Stato Islamico voleva colpire e avrebbe potuto avere un attacco simile, conseguenze davvero inimmaginabili, impensabili. Nel telegiornale parleremo anche della pesantissima ondata di caldo, vi daremo un po' la cronaca, i numeri, le difficoltà, i danni che già ci sono, ecco lasciamo per oggi da parte tutta la discussione, il dibattito su cosa, se c'è un cambiamento climatico, tra l'altro i dati insomma sono abbastanza evidenti, insomma andare a inseguire chi rispetta o non rispetta gli accordi per evitare il cambiamento del clima. E allora ce ne sono tante altre notizie in scaletta ma cominciamo con i titoli, cominciamo il telegiornale, partiamo dai titoli tra 30 secondi dopo la pubblicità. Slitta domani mattina al Consiglio dei Ministri chiamato a riunirsi per approvare il decreto per il salvataggio di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, il tesoro tratta con intesa San Paolo per valutare il numero degli esuberi, non mancano le polemiche, con Bersani che critica il governo doveva essere aperto con un contenzioso con l'Unione Europea, dice serve chiarezza nelle prossime ore, lunedì riaprono i mercati. E domani si torna al voto per i ballottaggi in 111 comuni da Gorizia a Trapani, per oltre 4 milioni di persone seggi aperti, dalle 7 alle 23, dopo la scarsa affluenza di due settimane fa in molte città, gli elettori del Movimento 5 Stelle chiamati a fare l'ago della bilancia tra centro-sinistra e centro-destra, protagonisti in tante piazze. La 7 eseguirà tutti i risultati con uno speciale condotto dal direttore Enrico Mentana a partire dalle 22.15. Il nuovo accordo che ha convinto Fabio Fazio a restare in Rai diventa bersaglio di numerosi attacchi, a cominciare da quello del Presidente della Commissione di Vigilanza di Viale Mazzini, scandaloso, voleva andare via, ma adesso rimane, fa il comunista con il portafoglio a destra, le parole appunto del 5 Stelle Roberto Fico, duro attacco anche del PD Anzaldi che ha presentato un esposto alla Corte dei Conti e all'autorità anticorruzione. 49 gradi è la temperatura record percepita oggi a Ferrara dove il termometro ha segnato 37 gradi. Caldo record in diverse città italiane, in questo fine settimana il problema principale è la siccità con laghi e fiumi in secca. Fermata a Torino, Lara, una giovane italiana che aveva deciso di convertirsi all'Islam e sposare la Jihad. Era stata fermata ed espulsa in Turchia a dicembre e proprio da lì, secondo gli investigatori, avrebbe fatto più volte la staffetta con la Siria per conto delle milizie jihadiste. Avrebbe anche costretto alla conversione il marito, morto probabilmente in Siria lo scorso dicembre. Buonasera, dunque era in programma oggi, si diceva all'ora di pranzo, poi è slittato nel pomeriggio, infine si diceva all'ora di cena e invece si sarà domani, è arrivata la comunicazione ufficiale da Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri che deve varare il decreto per il salvataggio della popolare delle banche, Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Banche da porre in liquidazione con modalità che, da quello che si è saputo, andrebbero bene alla Banca Centrale Europea, invece criticate dall'Unione Europea e anche da gran parte dell'opposizione politica qui in Italia. Era previsto per l'ora di pranzo, poi è slittato e solo nel tardo pomeriggio si è saputo che sarebbe stato rinviato a domani. Parliamo del Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto licenziare il decreto sulla liquidazione delle due banche venete. Alle 5 del pomeriggio però il Ministro dell'Economia Piercarlo Paduan è arrivato a Palazzo Chigi per parlare con il Presidente del Consiglio Gentiloni, verosimilmente dei fatti decisi ieri dalla Banca Centrale Europea. che con un comunicato ha fatto sapere che essendo Veneto Banca e Popolare di Vicenza prossime a fallire, si sarebbe dovuto procedere alla loro liquidazione ma secondo le norme italiane e non quelle controverse europee del cosiddetto fallimento interno. Dunque nessun bail-in, nonostante sia in vigore da un anno e mezzo, ma procedura di fallimento. E qui si aprono diversi scenari. Lo Stato italiano potrebbe scorporare gli istituti, pagare di tasca sua i crediti deteriorati e consegnare le banche ripulite a Intesa San Paolo, al prezzo simbolico di un euro. Il che significa che a rimetterci, diciamo così, sarebbero tutti i contribuenti italiani per un valore approssimativo di 5 miliardi, soldi pubblici da trovare a debito emettendo ad esempio titoli di Stato. Ma non è tutto. Intesa che ha già diversi esuberi suoi da gestire, non vuole farsi carico delle migliaia di esuberi che si prospettano con la liquidazione delle due venete. E anche in questo caso potrebbe intervenire lo Stato con gli ammortizzatori sociali, che hanno però un costo a carico della collettività. Secondo alcune indiscrezioni, questa opzione fra l'altro non sarebbe affatto piaciuta alla commissaria alla concorrenza Margarete Festager, che avrebbe visto in questo intervento dei vietatissimi aiuti di Stato. Ma dicevamo si tratta di indiscrezioni smentite per il momento da fonti del Ministero dell'Economia. Resta però la richiesta, questa sì confermata dall'amministratore di intesa Carlo Messina, di poter contare su un decreto che al momento della conversione in legge non subisca alcuna modifica, cosa tecnicamente e politicamente molto difficile. E però, fino a una settimana fa, il quadro era molto diverso. Il governo cercava investitori ai quali aveva chiesto circa un miliardo e duecento milioni da investire negli istituti. Ora invece sembra tutto azzerato. E a Vicenza e Montebelluna la preoccupazione è palpabile per tutti, dipendenti, correntisti e soci delle banche. Situazione difficile, come si capisce bene da questa ricostruzione, che per le opposizioni il governo, quello attuale Gentiloni e prima quello Renzi, doveva affrontare prima, intervenendo prima con un decreto, con dei provvedimenti. E per questo finisce chi con Renzi e poi con Gentiloni sta al Ministero dell'Economia, e cioè Pier Cardo Padoan. A tre giorni dal varo definitivo della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, la crisi del credito torna ad animare lo scontro politico. Il caso dei due istituti veneti ormai vicini al fallimento mette il governo nel mirino delle opposizioni, a cominciare da Forza Italia. Sulle banche i governi Renzi e Gentiloni hanno miseramente fallito, tuona Renato Brunetta. Hanno sbagliato tutto, hanno agito con leggerezza e approssimazione. Il fallimento delle due banche venete rappresenta solo l'ultimo di una lunga serie di blackout che i governi Renzi e Gentiloni hanno inspiegabilmente avuto in questi anni. Negando la crisi, il tesoro non è intervenuto quando ancora era in tempo per farlo, accuse il capogruppo forzista, assicurando allo stesso tempo sostegno alle azioni che il governo vorrà intraprendere. Noi siamo responsabili, oggi dobbiamo salvare il salvabile. Da sinistra italiana Stefano Fassina contesta la probabile soluzione della crisi e chiede a Paduan di riferire al più presto in Parlamento. Si prefigura un enorme regalo a banca intesa e un enorme danno ai contribuenti. A intesa vengono regalati asset buoni e redditizi. Il bilancio pubblico invece si prende in carico gli esuberi delle due banche. È una soluzione inaccettabile. Vanno percorse altre strade, attacca Fassina chiamando in causa il capo dello Stato. Sono sicuro che il presidente Mattarella segua con attenzione un passaggio così delicato. Il presidente leghista del Veneto, Luca Zaia, chiede polemicamente cosa sia successo negli ultimi giorni. Com'è possibile passare da una ricapitalizzazione precauzionale da 1,2 miliardi alla vendita di due banche a un euro? Quale posizione il governo ha tenuto in Europa? È la UE che decide per noi o gli italiani hanno ancora qualche diritto di decidere sulla loro economia? Si chiede il governatore Veneto. Governo sotto accusa anche per i 5 Stelle che affronteranno il tema banche nella prossima Assemblea dei Deputati. Per Pierluigi Bersani, MDP, all'origine dei guai c'è un cavillo sul quale il governo non è voluto andare a fondo, e cioè se il fondo di garanzia tutela dei risparmi che un fondo consortile delle banche sia o no un soggetto privato. La vigilanza dell'Europa ha detto che è un soggetto pubblico, spiega l'ex segretario PD, ma se fosse stato riconosciuto che quel fondo ha una natura privata, il meccanismo di risoluzione sarebbe stato molto, ma molto meno costoso. domani si torna al voto per i ballottaggi, due settimane fa il primo turno, e allora adesso domani seggi aperti dalle 7 alle 23, andranno a votare 4 milioni di persone, sono 22 i capoluoghi, le piazze più importanti Genova, Verona, Parma, Padova, L'Aquila, spesso si trovano di fronte centrodestra contro centrosinistra, appuntamento importante anche perché arriva a un anno dalla scadenza della legislatura, quindi test probante e che i partiti devono e terranno in conto. Per seguirlo lo speciale Maratona si parte un po' prima, i seggi chiudono alle 23, ma noi inizieremo alle 22.15 con il direttore Mentane, studio gli ospiti, i collegamenti, gli exit poll di Masia, ma veniamo in servizio. Mancano poche ore all'apertura dei seggi per i ballottaggi, dalle 7 alle 23 di domani sono chiamati al voto circa 4 milioni di italiani per scegliere i sindaci di 111 comuni, 22 dei quali capoluogo. Le principali sfide sono tra centrodestra e centrosinistra, schema che la politica nazionale sembrava aver archiviato, e la fotografia del primo turno registra un vantaggio dei candidati del centrodestra, sfide destinata ad avere ricadute sul quadro delle alleanze nazionali, le più importanti al nord. A partire da Genova, dove il candidato del centrosinistra, che ha sempre governato da quando si vota con la nuova legge, Crivello, insegue con 5 punti di distacco lo sfidante di centrodestra Marco Bucci, ma su Crivello al secondo turno convergeranno i voti della sinistra esclusa dai ballottaggi. Nessun appoggio invece dei 5 Stelle agli altri candidati, conferma Grillo. Il movimento è in partita solo in dieci comuni, ma uno solo di questi, capoluogo Asti, dove l'accesso al ballottaggio è arrivato dopo un riconteggio sul filo dei voti, 5 per l'esattezza. A Padova si sfidano il leghista Bitonci, in vantaggio al primo turno, su Giordane di centrosinistra, che potrebbe però catalizzare il ricco bottino del civico escluso Lorenzoni. L'eredità di Massimo Cialente in ballo all'Aquila, dove di Benedetto centrosinistra è inseguito con 12 punti di distacco da Biondi, appoggiato da tutto il centrodestra. Caso a sé Parma, dove l'ex 5 Stelle Federico Pizzarotti cerca il bis con una lista civica, è inseguito con soli due punti di distanza da Paolo Scarpa, del centrosinistra. Duello ancora più inedito a Verona, dove Federico Sboarina, appoggiato da Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia, si gioca la poltrona con Patrizia Bisinella, che raccoglie l'eredità dell'ex leghista Flavio Tosi e può contare sull'appoggio del PD in chiave anticarroccio. Si torna al classico centrosinistra contro centrodestra, invece a Sesto San Giovanni, non un capoluogo ma una storica roccaforte rossa. Caso a sé Trapani, l'unico candidato dovrà affrontare la più difficile delle sfide, quella con l'affluenza. Se non andranno a votare il 50% più uno dei trapanesi, arriverà un commissario. È una cifra alta con tanti zeri, è quella che è riuscito a strappare Fabio Fazio, che ha firmato il nuovo contratto con la RAI. Fazio che è riuscito davvero in un'impresa, perché ha messo d'accordo chi normalmente si trova su fronti opposti e si divide davvero su tutto. Non sul contratto, dicevamo, di Fazio. Per dire, c'è il parlamentare del Partito Democratico, Michele Ansaldi, portavoce di Renzi, che addirittura presenta contro il nuovo contratto un esposto all'autorità anticorruzione, alla Corte dei Conti. Dall'altra parte il 5 Stelle Fico, che è presidente della Commissione di Vigilanza RAI, che parla di vero e proprio scandalo. Nuovo capitolo nella saga della polemica tra politica e RAI. Dopo l'ok ai palinsessi autunnali deciso dal Consiglio di Amministrazione di Viale Mazzini, è la notizia del nuovo contratto di Fabio Fazio, con il limitato compenso a 11 milioni in 4 anni, ben superiore a 240 mila euro annui del tetto degli artisti, voluto dall'ex direttore generale Campodallorto ad accendere le polveri e a provocare una reazione bipartisan. Dopo il leader della Rega, Matteo Salvini, prima a polemizzare ieri sulla decisione del CD a RAI, PD e Movimento 5 Stelle si sono trovati per una volta dalla stessa parte. E questa è un'altra notizia, con Roberto Fico, presidente della Commissione Vigilanza RAI. È uno scandalo perché come si era preventivato di toccare il portafogli al grande comunista Fabio Fazio, subito voleva scappare probabilmente in alta tv alla 7. Ora che è arrivato il suo compare Orfeo, viene spostato a RAI 1, gli aumentano lo stipendio e non vuole più scappare alla RAI. Ancora più duro, se si può, l'attacco, scritto nero su bianco, su Facebook, di Michele Anzaldi, portavoce di Matteo Renzi e segretario della Vigilanza RAI, che arriva a ipotizzare il dolo per l'azienda pubblica, annunciando un esposto all'autorità anticorruzione e alla Corte dei Conti. Si configura uno scandalo di grandi proporzioni, spiega il deputato Dem, che colpisce le casse dell'azienda e causa anche un evidente danno reputazionale di fronte al Paese. A fronte di ciò, la Corte dei Conti, che è un proprio rappresentante nel CDRAI e ad ANAC, Massima Autorità di Garanzia per i Contratti Pubblici, dovrebbero valutare se non sia opportuno accendere un faro su quanto sta accadendo nel servizio pubblico radio-televisivo, pagato con quasi 2 miliardi all'anno dai soldi dei cittadini. Polemiche anche per la cancellazione dell'arena di Massimo Giletti dal pomeriggio domenicale di RAI 1, ma in questo caso è forza Italia a prendere le difese del conduttore torinese, con Maurizio Gasparri che parla di mancanza di pluralismo ed Anna Maria Bernini di scelta incomprensibile per un programma che fa ascolti e fa guadagnare la RAI con la raccolta pubblicitaria. Capitolo chiuso solo per ora, con la presentazione dei palinsesti dei principali network RAI per prima alle porte e le elezioni in primavera c'è da attendersi probabilmente nuovi colpi di scena. Volevano provocare una strage nella grande moschea della Mecca, la città santa dei musulmani terroristi fermati dalle forze di polizia saudite, uno solo è seguito dagli agenti è riuscito a farsi saltare in aria provocando il ferimento di una decina di persone, ma l'azione dimostra un pericolosissimo crescendo perché l'Arabia Saudita è vero, è il principale alleato degli Stati Uniti, i terroristi quasi certamente dell'Isis quindi volevano scatenare un crescendo inimmaginabile. A questo proposito è importante sottolineare una presa di posizione dell'Iran sciita che ha espresso immediata solidarietà ai reali sauditi che sono sunniti nella lettura wahabita. Un copione già visto, quello fallito ieri alla Mecca, colpire una moschea alla fine di un giorno di Ramadan, ieri in tutto il mondo musulmano, era l'ultimo venerdì di preghiera della festa del digiuno. Città, strade, luoghi di culto sin dal primo mattino sono piene di gente, ottimo target per i codardi autori di queste violenze, ma stavolta gli uomini della sicurezza sauditi hanno bloccato in anticipo i componenti di ben tre cellule terroriste pronte ad entrare in azione. Obiettivo la grande moschea della Mecca, a finire nella rete dei servizi di sicurezza quattro uomini ed una donna, un quinto componente del gruppo una volta individuato ha cercato di reagire, si è barricato in un edificio, ha fatto fuoco sugli agenti prima di azionare un congegno esplosivo che lo ha ucciso ferendo oltre una decina di persone. La matrice sembra quella del sedicente stato islamico che oramai non fa più quasi distinzione circa gli obiettivi da colpire. Il nome della jihad in corso contro sunniti, sciiti, cristiani, ebrei, miscredenti, un anno fa, sempre durante il Ramadan, vennero attaccate due moschee sciite e fallì un attacco alla Medina, il secondo luogo sacro dell'Islam. Ed oggi anche l'Iran, sciita, da sempre avversario dei sauditi per la leadership regionale Medio Oriente, si è detto pronto ad affiancare la famiglia reale nella lotta al terrorismo dei tagliagole di al-Baghdadi, mossa non da poco se si pensa che Teheran e Riyadh non hanno rapporti diplomatici da oltre un anno e mezzo. Tornando agli attacchi alle moschee tre giorni fa a Mosul in Iraq, l'azione dei guerriglieri neri che in molti leggono come una dichiarazione finale di sconfitta da parte del califato la distruzione della moschee di Al-Nuri, da dove nel 2014, lo vedete in queste immagini oramai note, Abu Bakr al-Baghdadi proclamò la rinascita del califato. Ma lo scontro non sembra affatto concluso come testimoniano ancora oggi queste immagini di combattimenti tra jihadisti del sedicente califato e polizia federale irachena, sempre a Mosul, dove sono ancora oltre 100.000 i civili di fatto tenuti in ostaggio da poche centinaia di legionari con il drappo nero. Questi legionari che, come sapete, vengono rinforzati dai cosiddetti foreign fighters, cioè i combattenti stranieri che spesso arrivano dall'Occidente pronti a sacrificarsi, a morire per lo Stato islamico. Una foreign fighters italiana è stata arrestata in provincia di Alessandria. Si è radicalizzata in Italia nel 2014 dopo la conversione, quando aveva conosciuto l'amore il ragazzo che di lì a breve avrebbe sposato e poi spinto più volte a diventare un combattente fino ad incitarlo con forza, fai il tuo dovere. Lara Bombonati, 26 anni, nata a Milano e vissuta a Garbagna, nell'Alessandrino. Ieri è stata fermata dagli uomini della Digos in tempo utile, prima che partisse per la Siria, sfruttando alcuni contatti in Belgio, così come c'è scritto in questo comunicato della Procura di Torino, che indaga sulla presunta foreign fighter italiana Khadija, il nome dopo la conversione all'Islam. La donna ora è nel carcere di Torino, con l'accusa di terrorismo internazionale, in attesa che il GIP la incontri e ne convalidi l'arresto. Le indagini hanno svelato come la giovane fosse legata ai militanti arabi di Hayat Tahrir, al Sham, il movimento di liberazione del Levante, un gruppo jihadista, salafista, coinvolto nella guerra civile siriana, nato a gennaio di quest'anno, con l'obiettivo di unire gruppi estremisti vicino ad Al-Qaeda. Accostato a questa nuova formazione di combattenti, anche il marito di Lara, Francesco Cascio, originario di Trapani, 27 anni, madre insegnante, padre impiegato in prefettura. Di recente il ragazzo era stato in cura psichiatrica, al nord era andato in cerca di lavoro. Nel 2016 i genitori avevano denunciato la sua scomparsa, così erano iniziate le indagini sulla coppia. Il ragazzo sarebbe morto lo scorso 26 dicembre in Siria, come risulterebbe da una conversazione della giovane intercettata dagli investigatori. Lui combattente, nome di battaglia Muahmad, lei invece avrebbe fornito al gruppo assistenza logistica, sanitaria e psicologica. Sorride ed indossa un velo colorato, appare così in questa foto postata su Facebook dalla sorella gemella nel 2012, prima che iniziasse la radicalizzazione, prima dei viaggi tra l'Italia, la Turchia e la Siria. A gennaio la ragazza era stata fermata al confine tra la Turchia e la Siria, in una zona sotto il controllo delle pattuglie kurde, a tradirla documenti falsi, aveva passato qualche settimana nelle carceri turche, il governo non l'avrebbe espulsa ma solo segnalata alle autorità antiterrorismo italiane. Da tempo era intercettata e monitorata dagli inquirenti, considerata una presunta foreign fighter molto attiva, dalle chat di Telegram gli investigatori avrebbero ricostruito come la donna fosse in possesso di importanti documenti relativi al gruppo combattente kairista operante in Siria. Nelle chat anche l'esaltazione di alcuni attentati terroristici compiuti nei mesi scorsi nelle città di Oms e Damasco, decine le vittime. Quando ieri sera è stata trasferita nel carcere di Torino, davanti ad alcuni testimoni avrebbe precisato convinta, sono musulmana, lunedì il primo interrogatorio in carcere per la convalida del fermo. Ed ora in Gran Bretagna dove un attacco informatico c'è stato al Parlamento britannico, lo afferma la BBC ed anche lo confermano alcuni parlamentari che hanno segnalato l'impossibilità di accedere alle proprie e-mail. I parlamentari sono stati avvertiti dai servizi di sicurezza di Westminster che hanno confermato i tentativi non autorizzati di accedere alla lauro post elettronica dall'esterno e per questo poi gli indirizzi, gli account sono stati bloccati. L'attacco è avvenuto oltre un mese fa, dopo un mese fa ce n'è stato quello simile che come ricorderete colpì 48 strutture del Servizio Sanitario Nazionale e ricorderete anche le difficoltà in alcuni aeroporti della Gran Bretagna. l'inchiesta su questo ultimo episodio è in corso ma in Gran Bretagna arrivano anche dalla Gran Bretagna altre notizie che lì preoccupano e non poco perché ricorderete la tragedia della Grenfell Tower e allora ci sono state delle verifiche su altri grattacieli, tanti hanno dato, hanno fallito i test, hanno dato un esito negativo e cioè a rischio incendio, ben 27 strutture. Sono profughi nel cuore di Londra, sfollati con la valigia in mano e i bambini in braccio. Lasciano dietro di sé case intatte, rifugi dove hanno vissuto per anni eppure dopo la tragedia della Grenfell Tower niente può essere più come prima. La decisione di fare evacuare 5 di questi enormi palazzi nella zona di Camden è arrivata ieri sera intorno alle 19.30 ora di Londra dopo una giornata convulsa piena di annunci e smentite. Ma il risultato delle ispezioni dei vigili del fuoco alla fine non ha lasciato alternative. Il rivestimento delle 5 torri è esattamente uguale a quello che fasciava la torre dell'incendio, della strage dove 10 giorni fa almeno 79 persone hanno perso la vita. Tra di loro c'erano anche due ragazzi italiani. Così racconta Giorgia Gould, capo del municipio di Camden. Grenfell ha cambiato tutto, la gente è arrabbiata, alcuni mi hanno urlato contro, altri mi hanno abbracciato. La tensione è molto alta ma non c'era altro da fare. Così circa 800 persone sono finite qui in questo centro sportivo, file e file di materassi gonfiabili a terra in una situazione di assoluta emergenza. Si lavora per dare loro una sistemazione meno precaria, visto anche che per la messa in sicurezza degli stabili ci vorranno diverse settimane. Camden è finora l'unica municipalità ad aver preso una misura così drastica, anche se i controlli hanno rivelato falle in diversi altri edifici simili a questi in varie parti del Regno Unito. Sirisa May ha spiegato che il governo ha fatto di tutto per aiutare le autorità locali a controllare la qualità dei rivestimenti utilizzati e la parola decisiva sui provvedimenti da prendere è stata lasciata ai vigili del fuoco. La nostra principale preoccupazione ha insistito la Premier, tanto criticata per la risposta alla tragedia della Grenfell Tower, è la sicurezza delle persone. Ma anche stasera il suo rivale laburista non ha perso l'occasione di attaccarla. Forte dei sondaggi che lo hanno incoronato come l'uomo politico più popolare del Regno, Jeremy Corbyn si è presentato sul palco del festival musicale di Glastonbury. Tra gli slogan, gli striscioni e gli applausi che ha scatenato non era difficile capire chi sia la vera star di quest'anno su quel palco. Il caldo, il gran caldo è il problema che sta creando tante difficoltà in queste ore, in questi giorni in Italia. Città che hanno raggiunto le temperature, in alcune città le temperature hanno raggiunto livelli davvero da record, sfiora i 40 a Ferrara e c'è il problema siccità con il livello anche del Poma di tanti fiumi, tanti laghi che si è abbassato in modo davvero preoccupante. 49 gradi, temperatura percepita a Ferrara anche se il termometro segna 37. Nel sabato rovente della penisola spicca il record della città emiliana soffocata da una cappa di umidità ma non è la sola a soffrire più del dovuto le temperature bollenti di questo scorcio d'estate. Termoli, Molise, Capofrasca, ovest della Sardegna sono altre località dove la temperatura percepita oggi arriva a superare i 45 gradi. In tutte le regioni del centro e del nord Italia le località dove è stato superato il tetto dei 40 gradi sono decine. A Roma, nonostante la minaccia di multe salatissime, i turisti cercano un refrigerio nelle fontane di Villa Borghese. La prolungata siccità sta provocando disagi anche nella capitale dopo l'ordinanza del Sina Coraggi sul razionamento d'acqua. Il Campidoglio riflette sulla opportunità di chiudere i nasoni le storiche fontanelle romane. Le fonti di approvvigionamento idrico della capitale sono ormai in riserva. Il lago di Bracciano scende al ritmo di un centimetro al giorno e i sindaci dell'area hanno presentato un esposto per disastro ambientale. Insecca anche il Po che fa segnare un livello anomalo di 13 centimetri sopra lo zero idrometrico dopo soli 30 chilometri dalla sorgente. Gli agricoltori sono già impegnati a contare i danni subiti e lo stato di emergenza, dichiarato già in Sardegna, Mila Romagna e Toscana, non basta. 20 miliardi di metri cubi d'acqua in meno rispetto allo scorso anno sono un dato che preoccupa. In vista di luglio e agosto, per ridurre gli sprechi, occorrerebbe cominciare dalla rete idrica, obsoleta e inadeguata. Secondo i dati forniti dal Consorzio dei Gestori degli Acquedotti italiani si perdono 39 litri di acqua ogni 100 immessi nella rete. Il 60% della rete nazionale è vecchio di 30 anni, il 25% supera il mezzo secolo. Servirebbero 5 miliardi di investimenti annui solo per avviare l'opera di manutenzione e rinnovamento, ma al ritmo con cui si procede adesso, 4 metri all'anno per ogni chilometro di condutture, serviranno più di 250 anni per completare l'opera. È stata aperta alle 16 di oggi pomeriggio nella sala Aldomoro di Montecitorio la Camera Ardente per l'ultimo saluto a Stefano Rodotà, scomparso ieri a Roma 84 anni. Tra i primi a porgere le condoglianze ai familiari il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, c'era poi la Presidente della Camera Laura Boldrini, presenti anche Giorgio Napolitano, Giuliano Mato e altri rappresentanti dell'area della sinistra che con Rodotà hanno condiviso anni di militanza e a salutare per l'ultima volta l'ex Vice Presidente della Camera anche la deputata 5 Stelle Laura Castelli in rappresentanza dei parlamentari del Movimento che come ricorderete nel 2013 candidarono Stefano Rodotà al Quirinale. Tra poco 8 e mezzo, ospiti di Lilli Gruber, ci sono lo scrittore Edoardo Albinati, Roberto D'Agostino, Alba Parietti. Noi ci rivediamo dopo la pubblicità con gli eventuali, se ci sono aggiornamenti. Eccoci di nuovo in studio, allora non ci sono aggiornamenti particolari, dunque la parola a Lilli Gruber, 8 e mezzo, buon proseguimento di serata.